Dottoressa Rondini, che cos'è la pedodonzia? La pedodonzia è quella branca dell'odontoiatria che si occupa della prevenzione e dello studio dei denti decidui e permanenti dei piccoli pazienti. Dottoressa, a che età è giusto cominciare a portare il proprio figlio dal dentista? Allora, normalmente noi consigliamo se un fratellino ha dei fratelli più piccolini, quando viene a farle visite o controlli, di portarli con loro, in modo che cominciano a prendere già confidenza con gli operatori, con l'ambiente e quindi verranno, quando toccherà loro, molto più serenamente. Altrimenti la prima visita di solito è molto consigliata verso i 4 anni e mezzo, 5, quando comincia il periodo della prevenzione e il bambino è già abbastanza grandicello da riuscire anche a fare le prime cure odontoiatriche nel qual caso ce ne fosse bisogno. Perché si curano i denti da latte? Allora, i denti da latte non sono denti di seconda categoria, come molti pensano, ma sono denti a tutti gli effetti, come i denti permanenti, per intenderci quelli degli adulti, sono dotati di smalto, di polpa, di dentina, di radici, quindi anche essi si cariano, sono soggetti al processo carioso, che più è grande, quindi più è distruente, la carie è maggiore il dolore anche nel piccolo paziente e infatti se la carie è superficiale, a volte le otturazioni si riescono a fare anche senza anestesia e quindi anche il trauma per il bambino è molto minore, specialmente durante le prime visite. A volte invece se la carie ha interessato molto i tessuti, il bambino magari arriva alla prima visita già con la faccia gonfia per un asciassi in corso e lì è molto più complicato perché il dolore è elevatissimo e il bambino può avere anche un rialzo febbrile importante. Quindi di solito si consiglia sempre di venire ai controlli ogni sei mesi per riuscire a prendere le patologie dentistiche quando sono agli inizi perché questo per il bambino aiuta moltissimo, specialmente anche dal punto di vista emotivo. Di che cosa si parla quando si dice prevenzione? Allora la prevenzione si divide in tre grandi capitoli, il primo è la motivazione all'igiene, il bambino da piccolo quando viene qua alle prime visite gli viene insegnato che spazzolino usare, quanto deve essere grande la testina dello spazzolino, come deve essere il movimento per spazzolare i denti quante volte questi vanno spazzolati e quindi comincia a entrare nel mondo dell'igiene dentale. A volte gli diamo anche degli opuscoli, dei giornalini, questo fatto con Topolino in modo che lui poi a casa se lo guarda insieme ai genitori e impara, insomma leggendolo ricorda quello che il dentista gli ha detto. Poi c'è come secondo grande capitolo la sigillatura dei solchi dei denti permanenti, normalmente si parla dei molari e dei premolari e il dente sia deciduo che permanente ha una superficie occlusale che è quella per intenderci dove viene triturato il cibo. In questa superficie sono presenti dei solchi dove la maggior parte delle volte si ferma il cibo e dopo è proprio lì che si comincia all'instaurarsi del processo carioso. Questi solchi con dei compositi fluidi vengono sigillati e quindi se anche il bambino mangia fuori con gli amici, non ha tempo per lavarsi i denti o si spazzola male, questi solchi praticamente essendo sigillati fa sì che non inizi il processo carioso, quindi è una prevenzione alla carie importante in un bambino specialmente se ha 6-7 anni quando ha ancora l'igiene, nonostante tutti insistiamo moltissimo, la fanno come possono insomma. E altra cosa c'è il fluoro. Il fluoro è una vernicetta che noi mettiamo sopra i denti quando sono in fase di crescita, cioè dai 6 ai 12 anni, cioè quando praticamente avviene la permuta dentale. Il dente quando comincia a crescere ha ancora uno smalto che è molto poroso, quindi riesce ad assorbire molto bene il fluoro che creerà una barriera all'attacco della carie. Se un bambino dovesse cadere a scuola, in piscina o mentre sta giocando, come si deve comportare? Allora, a volte, quando magari durante qualche sport o in piscina o a scuola, un bambino può cadere o scontrarsi con un altro bambino e si hanno dei traumi dentali. A volte questi comportano proprio la rottura di un pezzo di dente o l'avulsione completa del dente stesso, vuol dire quando il dente esce completamente dall'alveolo e vi trovate il dentino in mano praticamente. Allora, adesso il capitolo della traumatologia sarebbe molto esteso, però è importante riuscire a focalizzare l'attenzione su due cose. La prima è dove mantenere questo frammento dentale o questo dentino avulso. Praticamente si deve tenere o nel latte, se siete in casa e avete del latte, o nella soluzione fisiologica che a volte in casa si ha per lavare delle ferite o perlomeno a scuola hanno, oppure se proprio non avete nulla il frammento può essere mantenuto dal bambino stesso anche nella sua saliva, cioè quindi in bocca. L'importante è che non lo mettiate mai al secco, quindi tipo in un fazzolettino di carta o in un fazzoletto normale di stoffa. Ed è fondamentale il tempo che intercorre fra la caduta e l'arrivo dal dentista, perché la buona riuscita del trattamento poi qua in sedia dontoiatrica è indirettamente proporzionale al tempo trascorso dal trauma. Dottoressa, come si tranquillizza un bambino quando deve fare una seduta dal dentista? Allora, normalmente la prima seduta la usiamo un po' come gioco se il bambino è molto spaventato. Cioè gli viene fatto vedere tutti gli strumenti, come si usano, a cosa servono, gli viene fatto vedere sulla manina e sulle unghie che non fanno niente, che non tagliano, gli viene praticamente descritto tutto il processo che poi gli verrà fatto in bocca o sulla mano, sull'unghio, sul guanto dell'operatore, in modo che il bambino affronta una cosa che parzialmente conosce. Questo tranquillizza molto. È chiaro che se un bambino è stato precedentemente spaventato da una seduta magari in cui ha patito dolore e quindi magari è un pochino teso, a volte possono servire due sedute per raggiungere l'obiettivo. Nella prima gli si spiega tutto, a volte magari il dentino si medica e poi nella seconda si arriva al compimento dell'operazione odontoiatrica. Comunque è fondamentale a un bambino dire sempre la verità. Cioè noi difficilmente diciamo a un bambino, guarda non sentirai male se lo sentirà. Cioè cerchiamo di dire le cose in maniera da bambini, insomma perché un bambino non è un piccolo adulto ma è un bambino, però spiegandogli tutto, dicendogli sempre la verità, abbiamo sempre ottenuto dei buonissimi risultati.